Con qualcuno della classe, fa qualcosa di diverso Prova con le ragazze Eh, ho già fatto Rispetta le regole Allora niente, basta E magari incinta? Fidati del tuo intuito No Ma che cazzo è? Ma la era la vacca? L'abbiamo memoria Chi è che è la vacca? Lara Ma lei e Fabio avranno... Il futuro? Vai, riuscirà Riuscirà il nostro mago a ritrovare la carta misteriosa? Lasciati guidare Sì, da zonfatto, zinfo Ma... Sai, domande costitone Costitone? Costitone A Lara piace qualcuno della classe? Mi vede l'interno è simile qua Potrà sembrare difficile ma porterà nei risultati Cazzo, Samuele Che stazzo Le piace Samuele? Fallo, bravi Scusa un attimo Scusa un attimo Perché non mi ricordo Che cazzo di mano sei? Allora ti installai È questa qua? Sì È questa! Grazie